Io non ricordo a memoria un'iniziativa, un progetto che abbia avuto così tante critiche su ogni tipo di aspetto. E' veramente l'ennesimo record collezionato dalla linea alta velocità Torino-Lione. Su ogni aspetto del progetto è possibile fare delle critiche. Partiamo dal punto sostanziale che è quello economico. Un indebitamento per circa 30 miliardi di euro per un'opera che richiede per la sola parte italiana 20 milioni di metri cubi di rocce estratte, 7 milioni di metri cubi di cemento, 1 milione di tonnellate di acciaio senza alcuna utilità per il trasporto merci e per il trasferimento modale, 1 milione di metri cubi equivalente al volume di ognuna delle torri gemelle di New York, 400 metri di altezza su una base di 50 metri per 50. E questo è soltanto dal punto di vista semplicemente materiale. Ma potremmo fare critiche sia per il tipo di progetto, per l'inutilità di fondo di quest'opera, per il costo, per l'enorme numero di critiche ricevute e per le false previsioni su quelli che sono gli sviluppi e le utilità di questo progetto. La nuova linea ferroviaria Torino-Lione è un caso esemplare di questo tipo di opere perché non ha i dati che la giustifichino, perché ha effetti che sono addirittura controproducenti e perché è pesantemente dannosa sia per gli effetti diretti sull'ambiente che per l'enorme spreco di risorse che sono sottratte alle ferrovie e dalle necessità dei cittadini. Infine perché è inutile dal momento che il tunnel attuale è assolutamente moderno e non ha vincoli pratici. La spesa per opere inutili danneggia tutta l'economia della nazione. Le imprese emigrano verso paesi stranieri che hanno strutture per i trasporti decisamente inferiori alle nostre perché l'Italia con questi sprechi si priva delle risorse per rilanciare l'occupazione e per ridare competitività alle imprese attraverso l'innovazione tecnologica e la diminuzione del carico fiscale. Di conseguenza i miliardi di euro che vengono sottratti penalizzano l'economia italiana. Chiudo con un'altra mia osservazione personale e faccio qualche chilometro più a destra. Lo scorso ottobre sono stato alla commemorazione del Vaillant. Che cosa ci ha lasciato questa esperienza? Il Vaillant è un esempio ancora molto vivo di quella che è la politica italiana. Quella esperienza ci ha fatto capire che l'attuale politica italiana e con questa opera sta usando le stesse logiche degli anni Sessanta. Quindi quell'opera ancora viva ci dice che la vostra politica miope è ancora ferma a quegli anni e per questo diciamo no TAV. Grazie. Grazie. Grazie.